Addio mastodontiche berline extra lusso, oggigiorno, se pensiamo a qualcosa di davvero extra large, puntiamo decisamente su un SUV e tra i best in class, un posto di primo ordine ce l'ha senza dubbio Volkswagen Touareg. Nova Touareg i-Hybrid è una vettura ibrida plug-in che combina un motore elettrico con un motore a benzina. Quando la batteria è sufficientemente carica, l'auto si avvia silenziosamente in modalità elettrica, produce zero emissioni locali. Attivando la modalità ibrida è possibile combinare il funzionamento di entrambe le unità per una potenza massima del sistema di oltre 380 cavalli. In questa modalità, l'interazione tra il sistema di navigazione e la gestione della trazione è particolarmente interessante. Inserendo la destinazione e avviando la navigazione del percorso in modalità ibrida, il motore a combustione e il motore elettrico si integrano in armonia per l'intera durata del viaggio. Ovviamente, le batterie devono essere sempre cariche, altrimenti si viaggia a benzina e tutti i benefit dell'ibrido si vanno a perdere. Se non siamo abbezzi al fatto di ricaricare ogni sera la nostra auto come fosse uno smartphone, o non abbiamo modo perché non abbiamo colonnine o prese elettriche vicino casa, meglio optare per il caro vecchio diesel, che non ci tradirà mai nei consumi. Il design di nuova Touareg presenta linee decise. L'allestimento Elegance si riconosce esteriormente per spoiler e listellin tinta con la carrozzeria e diversi dettagli cromati su paraurtimo, da natura dei finestrini, griglia di protezione della calandra e diffusore, dove sono presenti i terminali di scarico, senza dimenticare i cerchi in lega da 20 pollici e il tettuccio panoramico. Per chi non si accontenta è poi disponibile l'allestimento Arline. Questa vettura, pratica e versatile, offre performance interessanti. Le prestazioni di questo Maxi SUV alla spina sono equiparabili ad una sportiva. Velocità massima che tocca 250 km orari ed accelerazione da 0 a 100 in appena 6 secondi e 3 sono un bel traguardo per un extra-size come Touareg. E non ultimo, ha un'autonomia di 810 km. La dinamica di guida impeccabile si unisce ad elevati contenuti tecnologici. A bordo troviamo vari dettagli in metallo che vanno ad impreziosire l'interfaccia digitale InnoVision Cockpit, composta da strumentazione Digital Cockpit da oltre 12 pollici e navigatore satellitare da 15. Non mancano i più importanti sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, con Cruise Control adattivo e Travel Assist, fino a 250 orari. Su strada, malgrado le dimensioni, si guida come una normale berlina. La massa è solo un fattore esteriore che non va mai a penalizzare la dinamica di guida. Sia nelle lunghe percorrenze che su percorsi pieni di curvi o nell'off-road, Touareg mantiene inalterate le sue prerogative di sicurezza e comfort che ne hanno fatto un best seller sul mercato.